Monbaroccio, scienza, natura, tradizione. Questo è il titolo del programma che accompagnerà la settimana da capitale al quadrato del comune di Monbaroccio all'interno del progetto 50x50 di Pesaro 2024 che sarà protagonista dal 15 al 21 luglio. Iniziamo lunedì partendo dal valore delle no gastronomie, in particolare dei nostri vini del territorio per continuare quello che Pesaro sta già facendo su Fiorenzuola. Abbiamo deciso di iniziare con la figura di Dante ma raccontato con quella che è la tradizione, con i nostri dialetti locali, in modo tale che anche il dialetto torni in auge in questa settimana perché dietro le tradizioni ci sono sempre dei dialetti, laddove con una parola si riesce a raccontare a volte un contesto intero. Ogni giorno avremo su Monbaroccio l'apertura di un museo, quindi in Palazzo del Monte in particolar modo, nonché in centro storico, nonché nella pinacoteca del nostro meraviglioso Beato Sante. Ogni giorno un evento, ogni giorno una circostanza, molto legati alla mobilità sostenibile, in particolar modo a quelli che saranno i percorsi tra martedì e giovedì, legati a un territorio raccontato sulle due ruote, ma in particolare un territorio che coinvolgerà le persone soggette dal Parkinson. Una malattia che purtroppo coinvolge tante persone, quindi il problema sanitario che si lega a una cultura del territorio, nonché della nostra storia. Per poi continuare, grazie alla Concommercio, nella valorizzazione dei nostri prodotti territoriali, con una cena itinerante che si svolgerà il giovedì su tutto il borgo, quindi ogni pietanza sarà legata a un museo. Per poi arrivare al venerdì, con quella che è la valorizzazione del Beato Sante, passando per la lavanda, quindi i prodotti dell'enologia territoriale legati al santuario tramite la lavanda stessa. Arrivare al sabato, laddove sarà la promozione di altri prodotti, in particolare dei birrifici artigianali, per poi chiudersi la domenica in un percorso itinerante e di valorizzazione culturale, ma che prevede il legame fra il nord e il sud delle Marche tramite i prodotti DOP. Prodotti DOP di denominazione origine protetta, che hanno un valore fondamentale in questa settimana, ma che permetteranno nell'ultima sera di collegare la provincia di Pesaro Rubino all'oliva alla scolana. Abbiamo invitato il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, che grazie al consorzio di Ascoli ci fornirà quell'oliva in modo tale da legare la rinnovazione Marche, che è sempre declinata al plurale, ma che grazie alla cultura e grazie all'enogastronomia riuscirà a raccontarsi in maniera singolare. Moveroccio è non solo uno dei comuni baricentrici della nostra provincia, ma anche uno di quelli con una storia e un presente anche legato all'agricoltura, all'agroalimentare più florido, oltre a essere uno dei punti nodali di produzione della DOP, della DOP, dell'olio di cartoceto, e che è un tema in generale molto battuto da questo anno di Capitale della Cultura, in particolare il progetto di 50x50, che interessando i 50 comuni promuovono le DOP, il rapporto con Foodbrain Marche, che promuove solo le DOP con tutti i marchi di qualità della regione Marche. Qui ci sta, oltre a gastarsi anche da città finalista, Ascoli, alla Capitale della Cultura, questo connubio con la città di Ascoli, perché l'oliva è un'altra DOP della nostra regione, quindi ha senso questo tipo di sottolineatura con cui si chiude una settimana, che in realtà è ricca di molti eventi, che parte anche qui nel segno dell'enologia, proprio il lunedì con la rassegna dei vini sotto le stelle, e che però nel mezzo ha anche tanto altro. Molte belle storie che partono da Monbaroccio, collegandosi anche ai territori limitrofi, che sono appunto pienamente nello spirito della Capitale 50x50, quindi tanti bei motivi per visitare Monbaroccio e tutto quello che era a proporre in questa settimana entrante.